Musica Benvenuti alle previsioni del tempo per domani sabato 28 dicembre. Inizialmente buono, poi dalle ore centrali il nuovo peggioramento al nord, a iniziare dal nord-ovest, con prime nubi e piogge in intensificazione ed anche fiocchi sugli 800-1200 metri. Peggiore entrosera su tutto il nord-ovest, Lombardia e Emilia Trentino, con piogge rovesci più diffusi e anche forti, soprattutto sulla Liguria. Nubi in aumento con locali piogge anche sul nord-Veneto, nord-Friuli. Meglio, con tempo più asciutto, sul resto delle regioni settentrionali, sulla Romagna. Nevicati abbondanti sulle Alpi, specie quelle centrali. Neve oltre i 1300 metri sul nord dell'Appennino. Nubi in aumento anche su Toscana e Sardegna entrosera. La pressione atmosferica raggiungerà in Campania valori vicini ai 1020 millibar grazie al rinforzo dell'anticiclone che garanterà diffusa stabilità atmosferica. Il cielo sarà dunque sereno o poco nuvoloso, salvo qualche locale addensamento di passaggio. Temperature in aumento, venti deboli di direzione variabile, mare poco mosso. M Grazie a tutti.